Ciao a tutti, siamo qui al porto di Benalmadena alla fine della seconda giornata. Diciamo che teoricamente questo meritato riposo, ma in realtà lavoreremo anche a cena comunque, le meravigliose anime che sono qui lo hanno saputo adesso e sono molto felici di lavorare anche a cena, visto che abbiamo avuto una giornata leggerissima, perché dopo la morte di ieri, oggi sono tutti e tre rinati. Ed è stato veramente bellissimo vederli trasformare, non faccio nomi e neanche cognomi, ma qualcuno di loro ha veramente cambiato energia, espressione, anzi, tutti e tre, tutti e tre, tutti e tre, veramente tantissimo. Quindi è stato veramente emozionante vedere quello che è successo, vederli rinascere, ma rinascere davvero. Si è trattato veramente di passare da uno stato di limbo, dove loro non erano quello che erano veramente, quello che sono veramente, ora io li vedo splendere, li vedo già splendere, non oso immaginare come saranno domani sera, perché già solo vederli oggi dopo il secondo giorno neanche ancora completato, li vedo già brillare di una luce stupenda. Ora ve li faccio vedere, ok? Guardate che meraviglia! Questo è Angelo. Ciao a tutti! Com'è stata la tua rinascita? Meravigliosa! È stata un'esperienza unica e di grande flusso, di grande energia, sentire proprio lasciare andare via il vecchio per far entrare il nuovo, una cosa meravigliosa. Grazie mille, Angelo. E qui abbiamo... Laura. Ciao a tutti! Come va? Vai, vai, vai! È stata un'emozione nascere di nuovo, un'emozione grande, tornare nuova è bellissimo, e sono contenta di risplendere. Molto bene! E adesso... Ciao! Oh, scusate, mi è scivolato! Ciao a tutti! Io sono Amagana, questo è il nome che mi è venuto nella rinascita, quindi sono andati via tutte le vecchie abitudini, paure, convinzioni, e quindi ritornare a zero, ripartire con più forze e voglia di risplendere. Molto bene! Teniamo conto che per loro è stato il primo video! Sì! Per tutti e tre! Perché quando gli ho detto adesso stasera facciamo un video tutti assieme, devo dire che non ho sentito un grandissimo entusiasmo, perché comunque non è da tutti fare un video, magari molti di loro possono, molte persone possono essere timide. Ebbene, e invece si sono permessi anche di fare questo, quindi sono veramente cambiati. Allora, vi saluto, vi lascio con una bellissima immagine del porto, della marina più bella del mondo, vediamo se riusciamo a vederla. Voilà! E un saluto da tutti quanti! Ciao! 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 Ciao, ciao, ciao! Ciao! Grazie.